Il piano strategico delle opere pubbliche è stato al centro del Consiglio Comunale di mercoledì scorso. Nel corso dell'assise è stato discusso ed approvato l'elenco annuale 2015 delle opere pubbliche, per il quale l'assessore con deleghe ai lavori pubblici Nunzio Senatore detta una tabella di marcia serrata per completare le opere già avviate dalla scorsa amministrazione e si dice fiducioso di poter dare un'impronta propria al piano triennale 2015-2017. Sostanzialmente è stato confermato il piano triennale delle opere pubbliche della scorsa amministrazione perché comunque per motivi cogenti abbiamo dovuto per forza fare questo. Però ci siamo già riproposti nella prossima seduta di approvazione di modificare in modo radicale il piano triennale, privilegiando soprattutto quello che è l'intervento nelle frazioni. Per quanto riguarda il piano triennale, abbiamo detto che ripercorre quello della vecchia amministrazione, quindi ci siamo dati l'impegno di completare le opere esistenti, in primis Piazza Abrega, tutti quanti, come dire, sotto gli occhi di tutti. Penso che per fine ottobre, massimo metà novembre, quindi sarà completa. Dal canto loro alcuni rappresentanti dell'opposizione, come Massimiliano Di Matteo e Armando Lamberti, scelgono di tenere una linea morbida nei confronti dell'amministrazione Servalli, in attesa che si verifichi se e quando l'annunciata svolta buona. La nostra posizione è una posizione sempre di attenzione alle possibili attività che la nuova amministrazione possa mettere in campo. Abbiamo detto in più modi che il nostro supporto di competenze tecniche, professionali e anche di idee per un reale stravolgimento della nostra città ci sono e ci saranno. E' ovvio che spetta l'amministrazione farci comprendere se è nella domanda dell'interesse loro una collaborazione. Noi lo abbiamo detto e certamente da questo bilancio non poteva vincersi un cambiamento radicale, c'è bisogno di un tempo e già dal prossimo atto, cioè dal bilancio di previsione 2016, che dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale a ottobre di quest'anno potremmo vedere delle novità determinanti per una cosiddetta svolta buona. Un Consiglio Comunale dal profilo tecnico senz'altro, ma che comunque però presenta ancora tutta una serie di complessità sotto il profilo politico, perché se da un lato è vero la ristrettezza temporale ha imposto a questa amministrazione una serie di scelte obbligate, è anche vero che però anche quei pochi margini di discrezionalità che comunque questa amministrazione poteva utilizzare per dare i segni, seppure in maniera timida, di una svolta buona, tanto annucciata e da noi tanto auspicata, noi non li abbiamo percepiti. La nuova gestione della Cavese firmata Domenico Campitiello porta ancora un'altra novità, una scuola calcio, a dirigerla Antonio Ruggero insieme a volte più o meno noti al pubblico medeliano, ma certamente professionisti che ben sapranno forgiare giovanissimi e adolescenti al giuoco del calcio. La Cavese dunque apre la sua cantera, puntando certamente sulle nuove generazioni, che si spera un giorno potranno fare la differenza fino anche alla rispettabile Serie A. Non ho parlato di calcio, ho parlato sempre della mentalità, delle ansie, del lato cognitivo dei ragazzi, che tutta l'area questa qua, delle aspettative, noi la dobbiamo togliere, dobbiamo riportare a far divertire i ragazzi, però giustamente attraverso una professionalità che va data, perché se uno decide di andare a fare scuola calcio in un posto, deve avere i giusti requisiti la scuola calcio, perché insegnare e trasmettere i valori, anche le competenze tecnico-tattiche, atletiche, attraverso gli istruttori è fondamentale, perché in quell'età particolarmente, se si sbagliano delle situazioni, si possono fare dei danni enormi, allontanare i ragazzini, ma fargli anche dei danni perché semmai delle cose non vanno fatte a quell'età, partendo dai piccoli amici, ai culcini e agli esordini. Quali saranno le prossime tappe, se dei genitori, anche dei ragazzi, si vogliono avvicinare alla scuola calcio della USD Cavese 1219, cosa devono fare? Devono venire a vedere i nostri stage, gli Open Day, che adesso lo faremo da settimana prossima, pubblicizzati sul nostro sito, oppure attraverso il gazebo che c'è sotto, e che lesteremo anche in questi giorni allo stadio. Per concludere, parteciperete ai campionati, immagino di sì? Sì, tutti i campionati che fanno la FIGC, noi iscriveremo, come da Roma, tutte le nostre squadette, quindi dai piccoli amici che giocano a 5, Pulcini a 9, gli esordini a 9, a 11, quindi adesso dobbiamo allestire le squadre e quindi poi faremo tutto quello che c'è da fare. Semplicemente in bocca al lupo si può dire? Come, crepi e grazie a voi. Avevamo promesso di essere al servizio della città e lo saremo. Domenica pomeriggio a Volla, allo stadio Paolo Borsellino, RTC Quarta Rete sarà all'occhio dei tifosi in occasione della gara inaugurale del campionato di Serie D, che vedrà la Cavese affrontare il città di Gragnano. Una gara a porte chiuse e in campo neutro che non può non ferire il cuore dei tifosi cavesi desiderosi di sostenere Capitan De Rose e compagni dagli spalti. Per questo le telecamere di Quarta Rete saranno lì, in diretta, per proporre la gara inaugurale a tanti tifosi che non potranno seguirla dal vivo a causa dei provvedimenti ancora da smaltire del giudice sportivo, che dopo gli episodi verificatisi lo scorso anno contro l'Andrea, avevano imposta alla Cavese tre gare a campo neutro e porte chiuse, due delle quali saranno giocate nel corso di questa stagione. Nessun problema dunque, come annunciato, Quarta Rete sarà all'occhio dei tifosi, critico e attento quanto basta, coinvolgente e appassionato al punto giusto. L'appuntamento è quindi per domenica alle ore 15 sul nostro canale 654 del Digitale Terrestre. Vietato mancare!